Come vedete il tuono, la cui datazione è successiva al lampo, è costruita esattamente come il lampo e quindi visibilmente Pascoli ha pensato alle due poesie, come dicevo nel video sul lampo, come un dittico, cioè due poesie che stanno una vicino all'altra. Il dittico è un termine che si usa in poesia per quelle pitture che vanno viste insieme, dittico due chiaramente. La struttura quindi è la stessa, con la ripresa iniziale e poi con una serie diversi, costruiti come la poesia precedente. E alcune riprese linguistiche del lampo sono visibili, tipo nella notte nera, che riprende esattamente l'ultimo verso della poesia il lampo, e tratto che è una parola che abbiamo già visto, questo elemento di improvviso, di elemento improvviso che viene fuori, che anche qui è tematizzato. Come vedrete, alcuni elementi di fonosimbolismo sono evidenti, c'è tantissime alliterazioni e qui sono ancora superiori perché se nel lampo la poesia è comunque costruita sull'immagine, qui è costruita sul suono, perché il suono chiaramente fa rumore. E nella notte nera come il nulla a un tratto col fragor d'arduro di rupo che frana il tuono rimbombon di schianto, rimbombò, rimbalzò, rotolò cupo e tacque e rimareggiò rifranto e poi svanì. Suave allora un canto su di di madre e il moto di una culla. Allora, il primo verso, come dicevo prima, riprende l'ultimo verso del lampo e, se volete, ne chiarisce l'aspetto funebre, l'aspetto, diciamo, legato all'aldilà, perché dice nera come il nulla. E ad un tratto, vedete che fra l'altro la poesia inizia con di nuovo e, esattamente come il lampo, e ad un tratto, quindi è passato il lampo, è passato un po' di tempo e dopo un po' arriva il tuono. Spero che sappiate anche perché, perché la velocità della luce è 300.000 km al secondo, mentre la velocità del suono è 300 km al secondo, quindi in realtà ci vuole circa 3 secondi al chilometro perché arrivi il suono, quindi è chiaro che ci mette un po' a un tratto, però, e il tuono si fa sentire prolungato, come sempre succede nel tuono, col fragore di un arduo dirupo, cioè di un alto, di un difficile da scalare dirupo, ma chiaramente la scelta di queste parole dipende dal fatto della profonda alliterazione della R. Noi sentiamo il rumore del tuono che arriva, che frana, perché è come se arrivasse qualcosa che si avvicina, si avvicina e poi ci frana addosso, e poi il tuono rimbombò di schianto, quindi oltre a sentire questo, questo specie di R che sta arrivando, poi sentiamo il botto, che si sente tramite le beat, per esempio, di schianto, c'è questo fortissimo rumore, e a quel punto si sente, fa sentire Pascoli, il fatto che il tuono non ha un rumore costante, ma ci ha, si sente arrivare, poi il botto, poi si sentono i rumori, poi si sentono altri colpi, e quindi rimbombò, rimbalzò, sentite tutte queste B, rotolò cupo, qui fa sentire, diciamo, quei rumori che ci sono tra un colpo e l'altro, e tacque, come spesso succede, c'è il primo un tuono, poi c'è un altro, e poi rimareggiò rifranto, come se fosse un mare che, diciamo, mosso, che fa l'ondata e poi rimareggia, cioè torna indietro, e poi si risbatte, e poi svanì. Quando, diciamo, il tuono, nella sua complessità, finisce, è straordinaria il cambio di suono che Pascoli fa, perché qui comincia a mettere tante A, allora, suave, canto, madre, che sono suoni aperti, dolci, che danno calma e pace. E quindi è come se ci fosse il tentativo di ricostruire quel nido familiare distrutto dal lampo, chiaramente la morte del padre, della poesia precedente, e si sente il canto di una madre che consola i figli, il nido, e il moto di una culla, ed è molto interessante perché culla fa, diciamo, è la speranza e la vita che va avanti, fa rima con nulla del primo verso. Anche qui l'uso delle virgole e della punteggiatura in senere è molto, molto sapiente. Diciamo che, a differenza della poesia precedente, qui non ci sono versi dove non c'è la virgola dove ci dovrebbe essere, ma ci sono virgole che mettono insieme dei versi, in particolare qui rimbombò, rimbalzò, rotolò, cupo, non mette la E probabilmente per placare il suono, per, diciamo, farlo sentire uno dietro l'altro, per far sentire il ripercorrersi dei suoni uno dietro l'altro.